ben arrivati buonasera ben arrivati a questa nuova diretta sonnuminosa coltiviamo ciò che umano eh torniamo live eh nuovamente con Daniella Conti che è una delle più recenti che hanno raggiunto il gruppo dei nostri esperti relatori professionisti ehm che hanno che si occupano da tre anni ormai sul sui canali di luminosa di fare divulgazione su materie che sono legate alle discipline bionaturali all'esoterismo ehm all'alimentazione alla non violenza tantissime tematiche che sono legate a coltivare ciò che è umano eh benvenuti a tutti gli amici e soci che ci stanno seguendo qui su Facebook su Zoom eh io vorrei ringraziare subito Daniella Conti che vedo collegata per essere qui con noi stasera buonasera Daniella benvenuta buonasera ben arrivata intanto grazie per essere con noi ancora una volta io vorrei eh presentare brevemente Daniella Conti a chi non la conosce so che stasera ci saranno collegate tantissime persone che hanno lavorato con lei nel suo lunghissimo percorso di divulgazione di ricerca però ci sono anche tante persone nuove e quindi diciamo con piacere introduco Daniella Conti a chi non la conosce e Daniella eh l'avete per chi c'era già l'avrà capito dal nostro appuntamento precedente è una castellatrice familiare ma non è soltanto questo è anche un'esperta di psicogeneologia e di biopsicosomatica sembrano avevo già avuto occasione di dire due parole difficilissime ma vedrete che con l'aiuto di Daniella capiremo quanto da vicino ci riguardano questi due concetti e suoneranno molto meno complicati di come possono apparire in questo momento Daniella ehm ha una laurea in lettere per trent'anni è stata insegnante nei licei di Stato ehm ma è stata anche redattrice e conduttrice radiofonica su tante riviste per molti anni ehm il suo percorso di ricerca è molto articolato per cui in realtà lei nel tempo ha avuto come come tante persone che si occupano di ricerca personale e spirituale ha avuto un percorso che si è sviluppato per cicli eh questa aspirazione verso l'essenziale verso la ricerca l'ha portata a incontrare grandi uomini d'Oriente e d'Occidente eh stasera faremo e ne parleremo eh perché questo è anche un viaggio eh tra le trame del tempo e nella storia di Daniella perché eh ci racconterà da dove nascono anche da questi incontri no come è nato questo percorso ehm lei ha studiato e insegnato per trent'anni le scoperte del dottor Hammer sulle origini delle malattie ne parleremo stasera e ha aggiunto a questo associato a questo tutta una serie di comprensioni e di studi ehm legati alla cultura sistemica e la psicogeneologia eh quello che oggi viene chiamato biopsicosomatica ehm ha lavorato per tanti anni cioè diciamo il suo percorso con le costellazioni familiari nasce direttamente con Mary Sophie e Bert Ellinger e da lì sostanzialmente arrivando alle costellazioni dopo un percorso che questa sera come vi dicevo andremo a ehm tracciare in qualche modo eh arriva alle costellazioni familiari e lì trova eh una potente alchimia trasformatrice evolutiva e uno strumento con il quale le lavora da tantissimi anni con tantissime persone in Francia e in Italia ehm perché per diciamo ha diffusamente viaggiato per l'Italia tenendo le sue eh attività. Allora io spero di di averti reso giustizia intanto Daniella in questa presentazione che non può che essere brevissima anche se in realtà diciamo appunto ci sarebbe da dire tantissimo no? Per poterti presentare ma lo faremo fare a te in qualche modo stasera ehm con questa intervista, questo appuntamento live dove diceva appunto parliamo di eh biopsicosomatica parleremo di Hammer eh come dire e tracceremo in qualche modo questo percorso per come tu lo hai incontrato e per le cose e le conclusioni se così possiamo dire se mai a delle conclusioni si arriva visto che siamo sempre in evoluzione ehm eh e quindi in qualche modo visto che l'argomento è complesso soprattutto per chi non ha familiarità ehm partirei da cercare di definire un perimetro dentro il quale noi ci muoveremo oppure tutto sommato parafrasandoti partirei da una tua espressione da una tua frase nella quale tu dici non si tratta di non curare ma in un altro modo con un'altra intelligenza osservare e comprendere il processo della malattia che permetterebbe di accompagnare il suo decorso in modo favorevole. Oggi noi parliamo parliamo di malattia e non solo parliamo di medicina biopsicologica parliamo eh psicobiologica e parliamo di fattori transgenerazionali una materia affascinantissima. Ehm ora io comincerei da un evento che tu anche l'altra volta hai brevemente accennato però è mia convinzione che di fronte a una quantità di informazioni anche un po' superficiali se vogliamo certe volte su queste tematiche tu sei un pilastro vivente e testimone vivente di certe cose per cui io comincerei il nostro appuntamento chiedendoti di raccontare brevemente la storia del dottor Hammer di cui noi parleremo questa sera eh il suo incontro eh in felice con il principe Vittorio Emanuele di Savoia la perdita del figlio che ne conseguì e tutto quello che è derivata a seguire da questo evento traumatico nella vita del dottor Hammer e da lì poi cominciamo questa nostra lungo viaggio di questa sera. Ok grazie. Se mi permetti voglio eh quando parli appunto della mia biografia eh mi piace sottolineare come è stata la vita che mi ha guidato verso tutte queste ricchezze che oggi eh sono felice sempre di condividere eh non avrei poi ecco quando ho incontrato il dottor Hammer ma non avrei mai immaginato eh tutto questo spazio che si sarebbe aperto eh proprio a livello profondo filosofico di comprensione della vita e che mi permette io direi la mia vita è proprio in due parti eh un una storia difficile fino all'ingrossa quarant'anni ne ho ottanta e e poi come appunto eh tutto questo mi ha permesso di invecchiare eh proprio con la gioia di di testimoniare come eh queste comprensioni ci permettono di vivere felici anche con un malgrado una storia drammatica iniziale sono orsana di madre a un anno ho perso la zia che mi ha allevato poi a dieci anni insomma avevo tante buone ragioni di una vita difficile quindi tu mi chiedi ecco di cominciare l'incontro con Hammer che è negli anni 89 quando Hammer quindi è nel luglio del 1978 che aveva uno yacht eh accanto a quello di Vittorio Emanuele di Savoia tra la Corsica e la Sardegna e ehm se ne è parlato molto ha creduto che ci fossero dei ladri che volevano prendere una una barca ha tirato un colpo di pistola che eh ha ferito e poi l'ho ucciso quattro mesi dopo il figlio Birk Hammer e eh eh il Hammer appunto è stato completamente sconvolto non solo dalla morte del figlio ma dal modo in cui poi la giustizia non ha riconosciuto nessun torto e quando poi Vittorio Emanuele è stato alcuni giorni in Puglia imprigionato per una storia di traffico c'erano delle microspie e un giornale eh nel mio libro lo cito non mi ricordo più se la Repubblica aveva appunto detto come avesse detto in cellula che grazie a Valéry Giscard d'Esta che era il presidente di quei tempi aveva fregato il dottor Hammer cioè non appunto non non è stata riconosciuta nessun torto a suo carico e eh questo fatto fa che negli anni due anni successivi alla morte di di Erkamer la mamma faceva un tumore al seno per cui in due anni è morta e Hammer sviluppava un tumore ai testicoli e eh lui curava tanta gente quindi dice io ho continuato però ho fatto il rapporto tra quest'episodio che aveva sconvolto la nostra vita che fino allora era una vita appunto di una famiglia aggata aveva creato un brevetto medico che insomma erano ricchi stavano bene una bella famiglia dice come mai dopo quest'episodio ci siamo ammalati e eh in pochi anni in due tre anni ha avuto più di sedicimila testimonianze che prima di un tumore eh c'era sempre stato un con ciò che lui chiama un conflitto biologico cioè quando la sopravvivenza è minacciata e eh e così ha capito già la logica tra la malattia e un sintomo del corpo e in pochi anni a quell'epoca parlava ancora appunto di eh di malattia nel senso classico cioè di come il corpo reagisse male tra virgolette a uno shock che sconvolge una persona ma in pochi anni eh ha tolto proprio la nozione di di malattia di male e c'è un medico di Palermo che ha scritto un libro Benattia ed è proprio questo il senso che Amera ha offerto al mondo quell'intelligenza della malattia di come secondo il tipo di situazione è un organo che reagisce e la reazione è un programma cellulare che abbiamo da milioni di anni e eh che che potenzializza il funzionamento di un organo per esempio un tumore al seno eh è in rapporto con eh persone che proteggiamo figli, alunni, eh può essere anche adulti con cui abbiamo un rapporto di protezione e siamo pronti a farci tagliare i segni, no? Angelina Jolie se gli è fatti ha fatto una masectomia preventiva perché la mamma e la nonna erano morte in tumore al seno. Amer capisce come la ghiandola mammaria si mette a servizio di una situazione in cui dei piccoli che proteggiamo sono in pericolo per produrre un latte più nutriente e già quest'esempio eh vi permette di capire ehm la differenza di di vissuto e perché la diagnosi tumore sconvolge tutti e in genere eh eh appunto non non aiuta a vivere nel modo migliore una la guarigione di un sintomo e ehm quindi con Amer in pochi anni e ho visto come aveva ragione eh era con un amico ma forse l'avevo già raccontato l'altra volta non so se eh con un ragazzo trentenne che aveva sviluppato otto chili di liposarcoma nella pancia così una storia che racconti anche nel tuo libro infatti da lì prendono le mosse tante riflessioni a dare troppi particolari perché non abbiamo un tempo infinito stasera e eh il questo ragazzo era figlio di un grande medico lionese che non non sapeva come aiutarlo pensavano appunto che che avesse pochi mesi di sopravvivenza e mi avevano parlato è così che ho conosciuto Amer che chiaro un medico che aveva un'altra visione della malattia e sono stata testimone di otto chili di tumore che sono spariti in pochi mesi senza appunto nessun intervento mentre quando andavamo in ospedale era una visione orrenda cioè gli dicevano appunto che c'era questo tumore nella pancia era come avere alien un mostro nella pancia che cresceva quindi capire l'intelligenza della malattia già di per sé è un aiuto straordinario perché invece di vedersi malato eh è l'invito a capire perché il corpo ha avuto bisogno di creare quel sintomo e quindi vorrei forse anche in modo molto rapido sottolineare come Amer che non è stato riconosciuto in quello che scopriva perché oggi più che mai sappiamo dopo tutto quello che è successo col covid sappiamo che abbiamo una medicina che non cerca il benessere e la salute dei malati ma a quell'epoca noi ancora ci credevamo e appunto c'era meravigliatissima di come lo attaccassero lo impedissero di fare corsi lezioni conferenze stato imprigionato in germania in italia no scusate in francia in germania e poi si è dovuto esiliare in norvegia dove è morto nel 2017 perché era il solo paese che non estradeva e in questa delusione di Amer di non aver potuto trasmettere al al mondo medico le sue scoperte eh nel libro che ha scritto il primo libro il testamento della nuova medicina germanica diceva come dava questa sue scoperte a alla gente che aveva le mani calde quando abbiamo le mani calde vuol dire non siamo in conflitto tutto va bene le mani calde e il cuore aperto e io lì mi ci sono ritrovata perché non io non ho una cultura scientifica ho avuto molte difficoltà a livello tecnico capire gli organi ma col quel poco che avevo capito ho visto guarigioni straordinarie e poi c'era c'è stato un medico di marsiglia questo nel 95 che è andato un po' oltre le scoperte di Amer che appunto è all'origine della biopsicogeneologia ne parleremo infatti più avanti cioè approfondiremo anche un po' anticipiamo Saba si esatto dice che lui era un oncologo e diceva i medici sanno molto meglio di voi delle cose sbagliate quindi con questo mi sentivo proprio erede di questa scoperta meravigliosa che già ha trasformato la mia vita togliendomi ogni paura della malattia e il risultato è stato che per 40 anni non sono quasi mai stata malata ho avuto forse una cosa e anche una cosa che era un fuoco di Sant'Antonio che fa malissimo e che è guarito ma in pochi giorni mentre di solito ci vogliono appunto cure e dura mesi e che è guarito con una risata ma proprio una risata quando uno dice ma che cos'è prende il libro va a vedere e trovo esattamente quello che mi era successo otto giorni prima il tipo di situazione all'origine o rituale sì allora volevo chiederti una cosa diciamo proprio perché è questo un po' uno degli argomenti più importanti di cui noi parliamo e che diciamo una delle grandi rivoluzioni cioè alla base di un tumore una malattia che si manifesta eccetera c'è uno shock conflittuale che per noi è imprevedibile naturalmente non è che ce lo aspettiamo no? Questa notizia conflittuale possiamo definirla proprio il momento in cui l'equilibrio della persona si sconvolge e genera la malattia? Sì però come lo dici tu è ancora un modo negativo il dottor Sabacci diceva immaginate che sono le dieci di sera c'è sfumata e c'è solo un tabaccaio aperto vi precipitate correte dice il cancro è il turbo si dice in italiano il turbo per dire il turbo delle cellule cioè quando c'è urgenza le cellule passano a un programma di urgenza che è il tumore ma quando finora si è guardato questo come una cosa cattiva da tagliare da e appunto non ci si è sono dati mezzi per capire secondo gli organi il senso l'utilità e Hammer insisteva moltissimo sul fatto che diceva un conflitto biologico non psicologico poi io possa avere un conflitto con mia madre ma è la situazione in cui non me l'aspetto e qualcosa mi prende proprio nel nella paura della sopravvivenza che il corpo produce malattia quando si tratta di tumori o altri sintomi l'altra cosa forse importante da dire proprio nel minimo che ha scoperto che la malattia è in due fasi la fase in cui il l'organo scatena questo programma si chiama la fase di stress simpatico tonica perché il sistema neurovegetativo ha due modi di funzionare per la notte ci prepara a dormire a riposarci e lì è il sistema vago tonico abbiamo fame abbiamo sonno e quando invece siamo nello stress la mattina che dobbiamo andare a lavorare abbiamo le mani più fredde perché la circolazione va verso più il centro gli organi mentali e in quella fase quando abbiamo un grosso conflitto il corpo va in una simpaticotonia estrema e lì non è così semplice cioè non è sempre così secondo i tessuti degli organi perché l'embriologia dei corpi è antica insomma si è fatta progressivamente quindi abbiamo organi con tessuti embriologici diversi ma all'ingrosso per dare l'idea quando ci ammaliamo spesso è nella seconda fase cioè dopo lo stress quando troviamo la soluzione lì ci viene la febbre le eruzioni eczema tutte le cose che gonfiano e spesso la gente crede lì che si ammala invece sta guarendo quindi questa è la grande quella sarebbe la fase di riparazione cioè prima c'è una fase che genere in cui il conflitto che è quella attiva e poi c'è questa fase che apparentemente si manifesta la malattia però in realtà ci stiamo riparando però non è così al cento per cento ci sono dei sintomi anche a volte nella fase di stress un'ulcera per esempio lo stomaco non è la riparazione quindi è un po' complesso cioè bisogna studiare per capire l'embriologia del corpo e in questo senso ci sono in Italia posso consigliare i libri di Claudio Truppiano grazie dottor Hammer che da alcune basi ci sono dei corsi di un ragazzo sardo che li fa bene però io direi ci sono due modi poi di prendere l'eredità delle scoperte di Hammer poi diventare bravissimo nella conoscenza del corpo studiare proprio l'anatomia a me questo non è piaciuto forse anche perché non ho le qualità per integrare appunto tutte queste nozioni del corpo ma sono l'esempio di mi sembra di come con le conoscenze un po' essenziali e con l'aiuto dei libri che esistono e oggi sono tanti se andate sul mio sito a bibliografia avete tanti tanti libri quando uno capisce all'ingrosso che come queste due fasi e soprattutto quando ha questa fiducia che quando mettete un gesso su una gamba nessuno dubita che dopo quattro settimane l'osso si rifà sì è così per tutto per tutte le malattie basta capire il senso del percorso e capire la fase se siamo nello stress o nella riparazione e poi fare il necessario per non ricadere nello stress perché tutte le malattie croniche sono malattie in cui non si finisce mai la riparazione in cui a volte per esempio tutti i problemi di artrosi o le artrite tutte le cose di infiammazione è che le riparazioni sono dolorose e quindi quando una persona sta guarendo di una poliartrite in realtà si svaluta di nuovo dicendo ecco sono vecchia cioè romatismi quindi riparte nel conflitto il corpo non riesce mai a guarire come un gesso che mettiamo e che poi è consolidato quindi l'invito è a farvi questa cultura ora che state bene per poi con libri o il mio anche desiderio è creare gruppi in cui poi appunto insieme si ragionano io volevo capire una cosa no cioè questa di cui abbiamo parlato potrebbe essere quella che poi viene definita la medicina psicobiologica ma come fa una persona a comprendere i sintomi del proprio corpo noi siamo abbiamo un problema con l'ascolto e con la comprensione oggi sì gli indiani d'america dicevano ognuno ha il suo destino scritto sulla fronte ma ha bisogno che qualcuno glielo legga in questo senso gli altri è importante però io nel mio percorso ho diciamo capito come queste conoscenze nuove le chiamero ha messo a nostra disposizione e anche per non delegare più la propria salute a un sistema medico che non ci aiuta che ci fa paura e che ha una cultura un medico in dieci anni di medicina grido passa un pomeriggio quattro ore sulla dietetica non è fatto nulla per far capire la salute ma solo la malattia e la maggioranza dei medici sono come dei venditori di prodotti chimici perché i laboratori farmaceutici fanno questo avevo chiesto da diciamo come si fa da diciamo in qualche modo a riconoscere il per ciascuno cioè a livello individuale come si fa a riconoscere il sin il sintomo però diciamo non so se visto che l'abbiamo citato magari si collega a questo argomento tu a un certo punto incontri il dottor sabà dopo l'incontro con hammer no? allora è chiaramente un personaggio diverso con un altro profilo questo rispetto alla tua comprensione e nella tua ricerca che cosa ha portato? allora rispetto quindi a quello che dicevo di capire come un sintomo è all'origine come no di quello che c'è all'origine di un sintomo della situazione un esempio un esempio un melanoma nella schiena per esempio di un signore era stato buttato fuori di casa dalla suocera che gli aveva sbattuto la porta trattandolo da non so che insulto in francese rassalù stronzo oppure e il suo corpo quindi l'ha vissuto come un attacco come una freccia nella schiena e quindi il corpo crea con la melanina una protezione cioè capire il senso intelligente utile di ogni malattia già ci garantisce questa tranquillità per cui poi basta non ricadere nello stress e tutto può guarire però c'è una cosa sulla quale hammer non è stato aperto anzi lui detestava il dottor sabato perché hammer in norvegia non aveva neanche i soldi per ricomprarsi un computer sabato invece ci ha fatto un sacco di soldi da oncologo faceva dei corsi che vendeva tantissimo e hammer che appunto era critico rispetto al lato interessato di questo medico quindi ora andiamo su un altro tipo un altro tipo di sguardo sulla malattia che hammer non ha condiviso quindi ci tengo a dirlo perché tanti più fedeli di hammer non l'hanno non hanno seguito questo e appunto considerano che non siamo rispettosi di quello che hammer ha trasmesso e con sabato io intanto avevo già avuto alcuni anni in cui aiutavo le persone come potevo e avevo visto tante guerrigioni ma anche no delle persone che non ce l'avevano fatta quindi cercavamo insomma di capire e sabato diceva dice immaginate che un giorno avete dimenticato qualcosa a casa e in un orario inabituale tornate a casa di corsa per prendere questa cosa e trovate vostro marito o vostra moglie con il migliore amico nella camera da letto dice come reagite ed era un giochetto in cui appunto ognuno diceva la sua quindi c'era chi diceva io gli sparo gli ammazzo c'era chi diceva beh chiudo la porta me ne vado e gli dico che anch'io ho un amante c'era chi diceva a casa mia nel mio letto poteva andare altrove c'era chi diceva sì lei è molto più bella di me capite quello che vi sto facendo vedere cioè la stessa situazione non crea la stessa reazione in tutti e quindi da lì diceva non è la situazione che crea la malattia ma la lettura della situazione che ne facciamo che determina la patologia chi trova che la ragazza col marito è più bella di lei di sé si svaluta e rischia di fare tumori alle ossa o una leucemia poi in fase di riparazione e quindi con Sabà il passo è stato di capire che cosa fa che una persona vedrà che quella ragazza è più bella di lei o nel letto farla a casa perché non sono andati in un albergo e lì ci faceva capire come se per esempio la persona aveva un nonno che tutta la vita ha lottato per il pozzo del terreno che un vicino cercava di recuperare l'acqua cioè una storia di territorio allora i discendenti di quella famiglia saranno come orientati a una lettura di tipo casa mia perché non in albergo sia una storia in cui appunto una nonna magari era innamorata e poi invece il suo amore sposa la sorella perché era più bella di lei andremo verso una svalutazione cioè ecco non quindi ci ha fatto capire l'impatto della storia e che non è una cosa una teoria così ma con la fisica quantistica abbiamo la spiegazione cioè noi non siamo individui separati e quindi con con Sabah mi sono aperta diciamo al transgenerazionale infatti era un po' quello che volevo chiederti cioè questo poi cosa c'entra? noi abbiamo parlato fino a di malattia di conflitto eccetera ma poi come entra? cioè che significa eredità biologica? tu lo stavi cominciando ad accennare e questa è una cosa che sempre lascia un po' a bocca aperta cioè genera stupore nelle persone sapere quanti in vetro possiamo andare no? per fare delle cose la quantistica che non siamo separati siamo tutti connessi e con la vita anche con i morti cioè non c'è una vera separazione anche con loro e ereditiamo gli occhi azzurri di un nonno ma anche la rabbia di una nonna la paura di qualcuno in famiglia che è stato anni di prigionia durante la guerra poi tutti i traumi familiari si ripercuotono questa non è una cosa nuova anche la Bibbia parlava di cose che si ripetono i genitori hanno mangiato l'uva acida e di figli ne hanno avuti i denti rovinati ma in una cultura di vittime come i vinti di verga cioè di poveri di persone che espiano un destino difficile la novità con questa nuova cultura è capire che appunto non è per punizione che riprendiamo una malattia e io lo vedo da 20 anni vedo proprio come le storie familiari sfociano sempre nelle problematiche di una persona vedo come alcune persone per esempio una ragazza che ho visto ieri ha problemi di sterilità e vede tutta la sua storia appunto che non riesce ad avere figli ma il lavoro va benissimo non ha problemi appunto con la professione con il denaro e invece altre persone che è un casino a livello professionale questo subito si vede quando raccontano i genitori, i nonni, i bisnonni lì c'è tutto però qui ci stiamo allontanando appunto dallo sguardo biologico di Amer e Amer forse non sarebbe d'accordo se fosse qui la sua cultura diciamo già era stato molto criticato dai suoi colleghi quindi questo passo della fisica quantistica non l'ha fatto perché ci teneva a una sua rispettabilità nella cultura medica scientifica il transgenerazionale è scientifico con la fisica quantistica e sono testimone di come in mezz'ora quando avete l'albero di una persona si vede tutto proprio a un livello cioè si arriva diciamo ad avere una visione aperta e diciamo che va dal passato verso il futuro cioè una visione chiara è una rilettura di cose alle quali magari prima non si riuscivano a dare motivazioni ecco e che ci fa capire il senso della nostra vita come cosa facciamo cosa veniamo a fare sulla terra è come quando abbiamo un padre e una madre siamo totalmente a servizio di tutto ciò che è dietro di loro e questo è Bertelling il creatore delle costellazioni che dice per amore cieco ripetiamo i dolori ripetiamo i traumi per mettere coscienza che libera tutto e quindi nei 40 anni da quando ho cominciato a capire questo oggi vedo come il senso di ogni malattia o difficoltà è quello che siamo venuti a cercare sulla terra tutti perché in ciò nell'ostacolo in ciò che non è facile per noi quello che ci fa reagire è quello che dobbiamo integrare con Amer ho capito che la malattia è intelligente, utile e poi con Sabà e Ellinger ho capito che non ci sono nemici che non ci sono i cattivi e i buoni e tutto questo ha sfociato appunto nella fine del dualismo che è la maledizione più grande della terra superare il dualismo è una delle grandi forse l'unica grande sfida spirituale che noi abbiamo oggi ed è questo oggi che mi ispira di più cioè guardare il mondo in questa perfezione a tutti i livelli che possiamo vedere quando abbiamo capito qualche meccanismo della biologia con Amer e del transgenerazionale io volevo chiederti una cosa diciamo sai che io ho letto in modo appassionato il tuo libro che è un libro biografico dove questo sguardo nel quale oggi lo stiamo appunto prendendo a pezzettini piccolissimi perché è un libro articolato pieno di storie, di esempi, di vita vissuta eccetera c'è una cosa che a me ha fatto un sacco riflettere e ti chiederei di raccontarla a beneficio di chi ci sta seguendo che è questa tutti conosciamo Pavlov e tu nel tuo libro fai l'esempio dei poveri verbi di Pavlov e io vorrei chiederti di raccontare questo esperimento e che cosa c'entra con quello che abbiamo detto fin qui è proprio una dimostrazione appunto Pavlov è molto conosciuto per i riflessi condizionali cioè dare ai cani da mangiare a un suono di campanella e poi la salivazione si attivava semplicemente come condizionarli certo sì faceva vedere una serie di esperimenti di condizionamento sì ho conosciuto l'esperienza che aveva fatto con due vermi che aveva messo in due scatole la scatola A e la scatola B e decide di scatenare l'inferno per il verme B cioè ogni volta apriva la scatola e punzecchiava il verme il verme poteva solo contorcersi per per difendersi cioè sì e lo faceva centinaia di volte non so questa è anche la cosa più orrenda della nostra cultura la vivistezione l'esperienza sugli animali è assolutamente inutile solo a creare nuove molecole da vendere a giustificare e dopo un po' lascia in pace i due vermi nelle due scatole permette loro di riprodursi e quando ci sono dei vermi ciattoli quelli della scatola A e della scatola B se apre la scatola A non succede niente se apre la scatola B tutti i vermi ciattoli si contorciano appena c'è l'apertura mentre loro non hanno subito niente direttamente cioè i figli del verme che era stato traumatizzato manifestavano un trauma ereditato dal verme papà o dall'aver messa mamma e senza saperlo cominciavano a contorcersi perché si era trasferito il trauma cioè l'esperienza era passata senza che ne v'essera fatta esperienza diretta e appunto l'utilità se in quel contesto il verme immagina che c'è un uccello un predatore che lo vuole mangiare è importante che i discendenti abbiano l'informazione per difendersi per la sopravvivenza ed è una appunto delle prove dell'utilità della trasmissione dei traumi delle malattie e dell'esperienza che viene decodificata e viene passata alle generazioni successive genetica solo questo cioè non è una degenerazione è solo una trasmissione per proteggere la sopravvivenza sì questa storia del verme era incredibile cioè quando l'ho letta ho detto ma tu ti rendi conto di come su un esempio lampante no? cioè un esempio lampante di come noi possiamo essere vedere e trasferire delle cose anche dei traumi no? e qui parlavamo di fattori transgenerazionali no? di come si trasferiscono e quindi era una cosa io mi ricollegherei un po' a questo perché noi abbiamo detto questa sera l'abbiamo detto anche la volta scorsa che noi oggi sappiamo di essere collegati con dei fili ai nostri avi eh ne abbiamo parlato appunto anche la volta scorsa abbiamo fatto un appuntamento dedicato alle costellazioni familiari proviamo a capire meglio che cos'è quella che viene chiamata sindrome degli antenati allora ecco il tuo modo di parlare siamo collegati con dei fili esprime ancora questa visione noi qui gli antenati lì quando eh allora forse lasciami dire un po' di più la fisica quando ai primi del novecento 1911 quando abbiamo avuto dei microscopi abbastanza potenti per guardare al di là dell'atomo cosa ci fosse ci aspettavamo di trovare il mattone con cui la visione dell'universo che difende la cultura ufficiale cioè del vuoto con dei pianeti delle stelle il corpo come un congegno di organi eh in realtà è crollato tutto perché non si è al di là degli atomi si è trovati bosoni neutrino si quark cioè mondi eh dove infinitamente microscopici dove ci sono onde e che possono a volte essere particelle e si è visto che nulla è separato che tutto è connesso anche un tavolo una sedia che sembra una cosa materiale eh dentro eh tutto è in movimento e tutto corrisponde a onde e ehm le conseguenze sono appunto queste no? i nostri cellulari eh che sono la concretizzazione che siamo tutti connessi che ehm quindi non è che io con un filo sono connessa al mio nonno eh la l'onda di vita che mi è trasmessa da mia madre e mio padre è la stessa onda di un nonno di eh quindi io visto così eh non niente è separato è la anzi nell'universo quando diciamo l'universo vuoto con dei pianeti delle stelle eh si è capito che il vuoto il direttore d'orchestra il vuoto è pieno di informazione e tutto è informazione e siamo sulla terra eh per appunto accrescere la consapevolezza di chi siamo e e quindi eh 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 avevo un'amica che per anni con cui avevo imparato Am che appunto insegnava era amica di Am era all'inizio che mi diceva quando io poi ho cominciato a fare costellazioni familiari mi diceva ma che ti serve andare a vedere i traumi dei genitori e dei nonni non ti bastano i nostri non l'ha mai capito nel nel suo modo di vedere le cose eh in realtà appunto in realtà tu avevi bisogno di uno sguardo più ampio cioè non cioè avevi bisogno di estendere la ricerca ad altre anche dimensioni e livelli di lettura si apre a una visione del mondo una filosofia che di per sé è guaritrice tu hai integrato infatti molte cose diverse cioè si è riuscita ad avere ad unire in una lettura unica tante cose per cui oggi hai uno sguardo che guarda queste cose alla luce di tanta conoscenza del tuo percorso di ricerca prima non ho tante qualità per l'anatomia ma mi sento appunto grandi qualità per queste sintesi di cose diverse e e vedevo io ho cercato a Amer per esempio di fargli capire anche l'interesse della dietetica e Amer era assolutamente contro lui diceva no è tutto psicosomatico e io ero sono stata crudista per 40 anni e lo svizzero tedesco che aveva scoperto diciamo un modo di mangiare crudista a lui cercava di far capire i traumi e non voleva tutte le persone i miei grandi maestri rimanevano impermeabili avevano ognuno aveva un aspetto dogmatico diciamo ecco non avevano quell'apertura che tu magari hai manifestato creando la mia è stata poi integrazione solitaria ma oggi ne tiro appunto un grande beneficio perché appunto con quello che succede oggi col covid si potrebbe appunto ho accennato prima la cultura medica che fa male all'umanità ma lo dico senza rancore senza questa lettura che nessuno è cattivo che non c'è da lottare contro nessuno ma solo integrare l'amore della vita a proposito di amore della vita diciamo proviamo a vedere un po' una sintesi io so perché ne abbiamo parlato che l'ultimo grande amore della tua vita l'ultima l'ultimo lavoro che ti ha concesso di fare una sintesi in qualche modo un'integrazione eccetera la sosta delle costellazioni ora io vorrei citare una frase dal tuo libro dove tu a un certo punto dici il dottor Sabah ha rese evidente la relazione tra malattia e passato della persona ha integrato alla biologia l'aspetto transgenerazionale che è quello che abbiamo detto fin qua ciò che ha allargato il potenziale delle scoperte del dottor Hammer e ha creato la biopsicogeneologia che cerca per esempio le memorie e questo è interessante le memorie traumatiche del nonno che poi diventano difficoltà psicologiche nel figlio e biologiche nel nipotino quindi c'è proprio un cambio sì di no c'è questo questo passaggio che è una lettera interessante questo è Giodorowski che diceva questo Hammer no e Sabah non lo dicevano così cioè non si sa se a ogni generazione c'è un passaggio però magari lasciami dare qualche esempio di malattia transgenerazionale come ecco sì uno chiarissimo era una signora negli anni 40 che era in Corsica giovanissima resta incinta di un ragazzo algerino che dopo qualche mese torna in Algeria lei incinta si fasciava la pancia per non farsi vedere dai genitori e la bambina che è nata verso i 40 anni ha creato dei problemi degli occhi fino alla cecità fate il rapporto capite o no cioè è nata in una madre che aveva il terrore che vedessero che era incinta quindi quel bambino lì l'organo che si mette a servizio la fa diventare cetia perché segue una logica della madre o una aspetta fammi ricordare si era un pilota d'aviazione che era fidanzato con una donna molto gelosa che temeva che in ogni aeroporto avesse poco come un marinaio diciamo lo costringe a prendere a cambiare a lavorare in un ufficio e la figlia di questa coppia lei che tipo di patologie diciamo sviluppa lì la cecità no ma non poter volare non potersi muovere patologie per esempio sclerosi multipla patologie del movimento della motricità quindi è lì dove la storia appunto della famiglia mostra in modo limpido le nostre difficoltà di ogni tipo che siano malattie o il campo professionale piuttosto che la coppia siamo proprio nel seguito di ciò che ci ha preceduto a servizio della vita e a servizio della vita per accrescere la nostra consapevolezza creiamo le difficoltà perfette incontrare un uomo alcolista che ci avvelenerà anni di vita coniugale diciamo di esempi ce ne sono veramente tantissimi poi per chi ha avuto occasione anche di fare i lavori di costellazione familiare con te vengono sempre fuori delle storie e alla vista di ognuno delle persone che partecipa si ricompongono narrazioni pazzesche cioè quello che oggi sembra che noi oggi stiamo raccontando che sembra una teoria poi in un gruppo di costellazioni prende corpo visi storie cioè prende proprio quella forma per cui per te in qualche modo le costellazioni sono un atto finale dove tu hai avuto uno strumento per poter come dire creare una sintesi se vogliamo anche di tutta questa lettura precedente no? Sì perché con Hammer avevo capito l'impatto biologico cioè come un cane può vivere fare lo stesso tumore alle mammelle di una donna ma con Sabah e Hellinger sono andata verso la comprensione la guarigione dell'anima della parte più spirituale e quindi ho integrato le due cose ma le costellazioni ci hanno in più con le scoperte di Hellinger che ha lavorato 50 anni nelle terapie familiari lui ha elaborato il posto giusto che ci permette di capire in una famiglia dov'è il problema a livello di malattie con Hammer ma con Hellinger si può capire tra due sorelle tra perché c'è molta rivalità ostilità e come superarlo cioè gli aspetti che possiamo definire parafrasando diciamo disfunzionali dolorosi eccetera trovano una lettura e una chiave di soluzione cioè una strada Hellinger che ha vissuto con gli Zulo in Africa del Sud ha capito i rapporti naturali lì dove la vita scorre con amore e cosa invece nella nostra cultura occidentale che è sempre più patologica anche se abbiamo noi sviluppato l'aspetto tecnologico quindi con questi riferimenti del posto giusto per una vita che scorra nella gioia dell'essere semplice si può io volevo chiederti una cosa che diciamo è molto forte che tu hai detto a un certo punto nel libro e che secondo me come dire per noi soprattutto perché ha una cultura cristiana eccetera certe volte può sembrare difficile anche la comprensione di questa cosa no tu va bene abbiamo detto che in qualche modo per te ma questo lo dici nel libro la vera terapia deve includere uno sguardo globale sul senso di ogni destino che è una frase bellissima cioè bisogna proprio leggere no questa traccia ehm anche in un'interazione con dimensioni che sfuggono alla razionalità e io questo diciamo capisco anche che si è necessario lavorare anche con un senso di trascendenza ci sono due concetti però che tu a un certo punto richiami da un lato dici che esiste una gratificazione inconsapevole in questo meccanismo e dall'altra parte tu hai usato un'espressione particolare tu hai detto a volte la morte rivela cioè il fatto che una persona muoia nonostante tutto nonostante la comprensione nonostante eh no cioè la persona comunque muore non ce la fa in un percorso di malattia e tu dici a volte la morte rivela fedeltà che non possono essere giudicate fallimentari questa frase è fortissima e mi piacerebbe molto che ce la spiegassi già ai tempi di Amer dell'inizio ricordo eh tra appunto le le prime persone che aveva aiutato una signora che aveva un tumore alle ossa aveva fatto la chemio perché la famiglia ci teneva e tre giorni prima della sua morte mi aveva detto per niente al mondo vorrei tornare a come ero prima della malattia perché con la malattia ho capito tante cose quindi era stato per me già un esempio di come la malattia compie il suo lavoro e quando si capisce la goccia di coscienza che siamo in un mare in cui siamo tutti connessi e tutti con questo scopo per l'umanità di accrescere la consapevolezza che vuol dire poi gioia di essere vivo qualsiasi sia la circostanza a cui siamo confrontati e poi più sono andata oltre nella comprensione spirituale profonda della vita e la morte è quello che dobbiamo affrontare tutti nel per capire che non c'è morte per capire che abbiamo compiuto quello che dovevamo fare la coscienza continua non so come ma e quindi è diverso vedere un dottore perché si vuole guarire e si resta dipendenti con la paura è molto diverso quando si capisce il senso della malattia e il senso della propria vita allora ecco sì qui posso citare un lavoro di Ellinger che mi ha sempre impressionato cioè quando dei malati si rivolgevano a lui non è che diceva non si preoccupi tutto andrà bene diceva scegli qui nel gruppo scegli la morte e poi io ero impressionata anche un ragazzo giovane il figlio di una mia amica trentenne e aveva detto scegli la morte io dicevo Dio questo era l'inizio di quando avevo cominciato a lavorare con lui e poi in un libro lo spiegava diceva se la persona non muore ebbè meglio avrà già preparato qualcosa che un giorno dovrà fare e se muore bene che ha guardato la morte negli occhi perché approfitterà proprio degli ultimi momenti di vita quindi ho avuto dei maestri con Ellinger straordinari in questo che non sono per niente nel compromesso di andare nel senso del pelo di una persona di consolarla è un lavoro dove appunto con la certezza del del posto giusto di ognuno si può essere duri perché non è che le costellazioni sono una terapia in cui la persona torna allora è un accompagnamento anche se alcuni costellatori lo fanno così perché l'hanno integrato nella vecchia cultura in cui si vede la difficoltà come una difficoltà e si vuole aiutare qualcuno la vera comprensione delle costellazioni è che non c'è niente di cattivo che il peggiore nemico è il regalo che la vita mi fa per guardare oltre e integrare quello che manca alla mia integrazione del tutto e in questo appunto questo è molto pacificante da un punto di vista cioè allenta le tensioni interiori sì però appunto può aiutare solo chi è veramente motivato a uscire fuori dalle sue problematiche chi vuole essere ascoltato per lamentarsi per dire colpa del marito che non l'ascoltava qui no nessuno li lascerà parlare da vittima intendi in un lavoro sulle costellazioni cioè quando si fa un lavoro di gruppo sulle costellazioni cioè chi sta lì a lamentarsi non sta arrivando con un'attitudine di diciamo di ascolto di sé che può essere utile anche di lavoro su di sé no? Ellinga dice dice a una vittima guarda non lavoro con te perché comunque non vuoi essere aiutato cerchi solo che io faccia il lavoro che tu consideri di cui hai bisogno quindi non serve a niente Ellinga diceva la vittima fallirà in tutto la vita affettiva e la vita professionale avrà una sola consolazione può scrivere sulla sua tomba sono fallito in tutto per colpa di e poi fare la lista il marito la sua io volevo chiederti un po' avviandoci alla conclusione una cosa che cosa sono tantissimi anni che tu fai questo lavoro che cosa è che ti emoziona oggi ancora quando tu lavori con le persone beh da tre anni da quella storia del covid sono stata molto influenzata da tutto quello che è successo e considero che il mio lavoro si sta trasformando ancora cioè che sto è una fase evolutiva sì 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 cose nuove e comunque adesso a ottobre ho avuto una grossa malattia per cui stavo morendo non so se te l'ho raccontato quindi la mia vita sta prendendo un'altra svolta proprio a livello dell'umanità e direi che all'ingrosso quello che oggi appunto mi ha toccato di più è proprio l'importanza della consapevolezza e che è questo che è stato il mio filo conduttore da da Hammer capire come funzioniamo quello che ci condiziona e sempre più avere le chiavi della nostra forza sì ma tu vedi le persone che riescono cioè spesso spesso la paura è un comune denominatore nelle persone che vivono delle difficoltà no e anche cioè c'è una serissima difficoltà mettere insieme la parte irrazionale della paura e la parte poi invece irrazionale della comprensione anche di che cosa un percorso spirituale ti può portare no però poi di pancia la persona cioè tu hai visto qual è la come dire la chiave che porta le persone a sciogliere la paura c'è quel click quel momento che tu hai individuato nell'esperienza delle persone oppure ognuna è una storia a sé oppure scusa ognuna è una storia a sé cioè ogni persona ha la sua storia e il suo click personale cioè hai letto un comune denominatore nel click oppure ognuno ha il suo click qui mi viene quello che Hellinger ha detto una volta qualcuno che diceva ho paura dice la paura bussa la porta il coraggio va ad aprire non fa nessuno è così diciamo però tu nell'esperienza delle persone quando è che hai visto che si scioglie la paura solo con la comprensione c'è un momento cioè tu hai assistito a un atto di che ho cominciato a dirti in questi tre anni ho scoperto in me delle paure che non sospettavo va bene c'è un po' complicato ma non voleva entrare nel dettaglio assolutamente però tu dici è un lavoro di ascolto costante sostanzialmente non finisce mai di scoperta costante anche di sé perché noi cambiamo è sempre ogni esitazione ogni paura è sempre un modo di arrivare poi nella propria forza quando abbiamo capito il meccanismo a ottobre sono stata male sono stata operata di un'occlusione intestinale quasi morivo ma è stato bellissimo cioè potevo merire mi andava bene non ho mai temuto qualcosa e mi ha portato questa comprensione di paure che avevo ancora e che di cui non avevo preso coscienza quindi ho 80 anni e la vita continua sempre meglio mi sembra diciamo che ci riserverai ancora un sacco di sorprese intanto io volevo ringraziarti noi è già da un'ora e un quarto che approfittiamo della tua generosità perché ogni volta racconti aneddoti storie tra l'altro questo viaggio è unico cioè tu sei una delle poche persone che io ho incrociato nella mia vita che ha avuto la possibilità di lavorare con persone così particolari che hanno dato contributi così importanti se vogliamo all'umanità e tu hai avuto la possibilità di compiere un viaggio attraverso interi perché è un viaggio attraverso se vogliamo anche un po' la storia dell'umanità ci sono tante cose messe insieme perché si va tanto indietro e tanto avanti nelle possibilità per cui in qualche modo è veramente una di quelle condizioni in cui si trascende il senso del tempo il lavoro che tu hai fatto prima di arrivare a Amer avevo ho vissuto un anno in India dove ho incontrato tanti tanti grandi saggi Krishamurti Osho insomma avevo già cercato e ho avuto la fortuna di incontrare persone bellissime ed è questo che mi dà il desiderio di aiutare come sono stata aiutata io questa è una cosa bellissima anche il senso della restituzione è una cosa sì è una cosa bellissima in tutti cioè una madre che ha un figlio ha il modo di ridare alla vita il dono che ha ricevuto e chi non ha figli come Bert Elling dice allora più degli altri sentirà il bisogno di trovare una sua vocazione per trasmettere al mondo qualcosa e Ellinger ha trasmesso le costellazioni familiari sì questa è una lettura super interessante io sono come sempre diciamo ci lasci con un sacco di spunti di riflessione io volevo anche dire che stiamo ragionando con Daniela per poter cominciare a fare anche un lavoro con le costellazioni familiari di gruppo sia in Sicilia che in Umbria quindi poi chi fosse interessato ci può contattare così cominciamo un po' a capire come potrebbe essere costituito il gruppo e possiamo come dire passare ad una fase più pratica del lavoro quindi per questo potete contattare l'associazione Numinosa nelle chat sia su Facebook che qui su Zoom abbiamo messo l'indirizzo email così da poter diciamo avere l'opportunità di lavorare con Daniela di presenza che vi assicura un'esperienza straordinaria trasformativa e d'altra parte chi ha avuto tanti la conoscono ma chi non ha avuto l'occasione è assolutamente invitata a non perdere questa opportunità ci stanno arrivando un sacco di messaggi per te qualcuno ha detto sono stata rapita e ipnotizzata da questa conversazione grazie veramente tante persone stanno ringraziando per il tempo che hai dedicato e per le informazioni che hai voluto condividere c'è chi ti saluta affettuosamente c'è Venera che dice ho avuto ho avuto la possibilità di fare le costellazioni di gruppo queste sete a Palermo e ti saluta affettuosamente c'è anche chi chiede dove può trovare il libro che intanto chiedono dove vivi in questo momento tu vivi a Palermo rispondo io poi chiedevano di sapere dove si può trovare il libro che citavamo immagino che stiamo parlando non potete scaricarlo gratis dal mio sito che è www.costellazioni trattino quello di mezzo familiari.com e lo potete scaricare è una lettura che consiglio perché è veramente una bellissima avventura umana che è quella di Daniela ma anche una uno spaccato di storie di vissuti umani e dell'incontro con una serie di personaggi straordinari che lei ha avuto la possibilità di incontrare nella sua vita e con la quale ha con i quali ha lavorato e ha avuto la possibilità di come dire portare avanti il suo percorso di ricerca quindi ne vale per me è stata una bellissima lettura ehm c'è qualcuno che dice che la condivisione è la gioia che traspare nel tuo modo di essere contagiosa eh chiedono se la diretta rimarrà disponibile dicevo prima Sirri rimarrà disponibile sul canale YouTube di Luminosa sulla pagina Facebook di Luminosa e sul gruppo quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi così vi arriverà la notifica eh tutte le volte che ci saranno contenuti anche di Daniela ehm ci sono altri ringraziamenti che arrivano da Facebook come sempre sei diciamo trattiamo argomenti che porti argomenti che sono di grande interesse per per le persone non ti sento Daniela che hai detto grazie per il tuo modo eh ti apprezzo veramente moltissimo spontaneo noi proviamo ci mettiamo al servizio diciamo cerchiamo di dare voce a cose che sembrano al nostro avviso certo c'è il nostro filtro però le riteniamo interessanti e cerchiamo di fare buona divulgazione evolutiva poi il lavoro è di ciascuno come sappiamo noi eh ringrazio tutti quelli che hanno preso un tempo per stare con noi qui questa sera con noi di Numinosa con Daniella Conti che veramente ringraziamo dal cuore per il suo tempo e per la sua generosità e perché si fosse collegato alla fine ricordiamo che organizzeremo delle costellazioni di gruppo con Daniella in Sicilia e in Umbria quindi chi avesse interesse per questa esperienza eh si metta in contatto con noi in modo tale che possiamo cominciare a programmare le prime date io vi ringrazio tutti eh buona serata eh grazie mille Daniella a prestissimo grazie 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 mille grazie grazie veramente grazie 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 ciao 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 buonanotte buonanotte sì grazie a tutti grazie a tutti